Vi auguro una serena giornata e un buon weekend. Il messaggio di oggi è vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Hai attratto questa carta perché il vero amore, quello che dura, è qui per te. Se la tua domanda riguarda una persona in particolare, allora questa carta è una conferma della natura divina della relazione. Questa persona prova amore sincero per te ed entrambi potete superare i problemi che si presentano, soprattutto se riuscite a esprimere i vostri sentimenti attraverso la gentilezza, la compassione e la cortesia l'una verso l'altro. Per esempio, avere conversazioni oneste sarebbe un'espressione del tuo vero amore, anche se comporterebbe discutere argomenti scomodi. Se al momento stai cercando una relazione, questa carta vuole rassicurarti che il vero amore è in cammino verso di te. Abbi fiducia perché sei destinato a vivere una relazione meravigliosa e non mettere a rischio tutto questo con un partner che non fa per te. È fondamentale che ti tratti bene prendendoti cura di te stesso perché la base di una vera relazione d'amore è rappresentata da due persone che amano innanzitutto se stesse. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata.